E quindi avete scelto di sposarvi, cioè avete scelto di consegnarvi l'uno all'altra, di donare la vostra vita l'uno all'altra. Per quale motivo questa donazione? È una donazione perché siccome ti amo così tanto, che voglio la tua felicità. Non la mia felicità, ma la tua felicità. Quindi amare è questo decidersi, questo consegnare. E se noi andiamo a vedere la parola amore, da che cosa è composta, che viene dal latino, significa senza morte. Amare come Dio. Abbiamo bisogno di una marcia in più per amare come Dio. E Dio ce la dà questa marcia in più. Nella misura in cui ci accostiamo a Dio. C'è questo modo di amarvi alla maniera di Gesù e con la grazia di Gesù. E quanto vi auguriamo che voi lo possiate sperimentare e accogliere sempre più e testimoniarlo anche agli altri. Questa è la missione che Dio vi affida. Testimoniatela con la grazia di Cristo. Testimoniatela nella beatitudine della vostra nuova via del matrimonio. Sonia, ricevi questo anello, un anello segno del mio amore e della mia fedeltà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.